carissimi amici del canale telegram dentro la notizia quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor gaetano tursi con il suo collaboratore medico e sindaco di francavilla marittima in provincia di cosenza per parlarci di geo ingegneria e dei pericoli per la salute dell'uomo e di quanto sta facendo per salvaguardare la popolazione benvenuto dottore e benvenuto anche al suo collaboratore lorenzo grazie abbiamo dato attenzione prima di tutto al territorio nostro quindi il territorio della sibaritide da premettere che qui nel nostro territorio non esiste nessuna discarica il territorio è tutto bello pulito è un territorio diciamo agricolo di alta qualità e pregio e quindi chiaramente è un territorio che noi vogliamo che sia salvaguardato quello che oggi non sta avvenendo perché praticamente tutti quanti smettono qui materiale tossico le sostanze vengono dismesse con gli altri potete vedere il video integrale sul nostro canale telegram iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su telegram e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin